Ops a tutti, miei cari opsini e opsine, come state? Come state? Spero molto molto bene. Oggi spero mi vediate bene e scusate le mie condizioni come sempre. Ho tipo una crosta qua sul naso, mi son fatto un taglietto e poi si è fatta la crosta, ma sembra che ho un bupone, però vabbè. Noi non ci preoccupiamo, non ci preoccupiamo. Oggi, come avrete potuto leggere dal titolo, ASMR Brain Message. Quindi, oggi molti suoni proprio al microfono e poi un po' di visual trigger, massaggio alla testa, bel po' di cose. Perciò, mi raccomando, mi raccomando, indossate un paio di colvie o auricolari, stendetevi sul vostro letto e cercate di chiudere gli occhi, va bene? Ho anche alzato leggermente il microfono per il video di oggi, dai. Quindi, 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 siamo ufficialmente pronti. vi dico già che fa un caldo assurdo, ma non importa. Non importa. Allora, io direi cominciamo innanzitutto con un piccolo massaggio fatto a visual, quindi un po' così, un po' di grattini, un po' di grattini, grattini, fatti sulla tua testa. Quindi, grattini, 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 così. Ecco, m'iccare, m'iccare di grattini, 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 Ma il capelli Grattini, grattini Grattini, grattini, grattini Grattiamo, grattiamo, così Ok, abbiamo grattato un po', adesso facciamo un piccolo massaggio così. Massaggio, 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 tutto questo poi per prepararci al vero brain massage, adesso un po' di massaggio così sulla testa, sulla testa, sulla testa, ancora poco, poco, ok. Perché oggi non lo so, a guardare le luci dietro, mi stanno a fare un po' male gli occhi, vabbè, allora, oggi cosa volevo fare? Ho tenuto l'occhio un po' l'occhio opposto, volevo fare così. Appunto, un vero e proprio scratchy, 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 sulla testa. Abre il lato, abre il lato. Scratch, scratchy, scratchy, scratchy. Scratch, 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 scratchy, scratchy. aver avuto la copertura, quella pelosa, tipo quella che ho nel tasco, in modo che così potevo fare proprio stretching, dividendo i peli, quasi come se fossero dei capelli, capito? Io per adesso posso fare solo così. Tra un po' però metto questa, la spugnetta che prima usavo sempre, ma poi ho smesso di usare. Però per adesso ancora un po' di scratch, 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 scratch. Ditemi se ti piace questo scratching qua proprio sul microfono. Che poi adesso ripensando mi chiedo, ma perché l'ho preso rosso, il microfono? Non lo so. Cioè potevo prenderlo tutto bianco, tutto nero, no, rosso lo volevo. Va bene. Al Matteo del passato mancavano qualche, un po' di dolori, però va bene. Che cazzo, che cazzo, che cazzo. Scratch, 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 scratch. Ritorniamo a fare un po' di scratch, un po' di grattini qui sulla telecamera. Grattini, 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 grattini. Grattini, 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 grattini. Mi gratto pure io la testa. Allora, adesso, cosa facciamo? Prendiamo questa spugna, ce la mettiamo sopra Ok, allora, ho dovuto tagliare, perché non si inseriva Allora, la derro per poco, però ho giusto il tempo per poter givare un po' di scratching Come vi sentite? Tipo un po' chiusi? Non lo so Massaggio, un po' di scratching Scratching alla testa Scratching 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 Scritch Waking out Scritch 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 I'm just supposed to die Ok Siamo tornati E niente Questo è l'app di Scritch Scritch Non ce la faccio Portare il microfono Cioè guardate ho tenuto le unghie lunghe solo per fare così Secondo me è molto meglio senza la spugna che con la spugna Però ho voluto comunque provare Scusate se non parlo ma sono concentrato Vabbè facciamo altro perché sennò io muto Vabbè Diamo ancora un po' fastidio alla telecamera così Facciamo un po' di trigger qua davanti, qua davanti, qua davanti Mamma Mesh che caldo Così Così Massaggiamo di nuovo Massaggiamo di nuovo Chiudi gli occhi mi raccomando Chiudi gli occhi mentre io Massaggiamo di nuovo 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 Massaggio Massaggio Ma mi fa male la schia stare così dritta Perché sono state a stare così, ma così brutta Allora Non so più cosa fare Non lo so, non lo so, non lo so Allora ci sono gli uccellini che hanno iniziato a 5 hectare Quindi magari se li sentirete sottofondo Adesso però che devo continuare con lo scratching, scratching, scratching Perché è un massaggio alla testa Quindi scratch, scratch, scratch Scratch, 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 scratch Facciamo prima sul lato sinistro Quindi scratch, scratch Cerca, non so se dovrei mettermi per di qua o per di qua Scratch, scratch, scratch Adesso sul lato destro Scratch, 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 scratch Scratch, scratch, scratch Entrambi i lati insieme Scratch, scratch, scratch Scratch, scratch, scratch Scratch, scratch, scratch Scratch, scratch, scratch Comunque, cosa che non c'entra, sapete quante volte mi è volato per te lo sto microfono? Una volta proprio in una maniera bruttissima, infatti pensavo si fosse rotto. Praticamente era sul tavolino, il classico tavolino che usavo prima, ad un certo punto una delle gambe cede, allora il tavolino era all'altezza di un metro, ma forse anche meno dai, una gamba cede, si stacca, il tavolino si picca, il microfono cade proprio di testa. Infatti all'inizio quando lo provai non funzionava e io ero morta dentro, però poi a funzionare e poi sa funzionare di nuovo, perciò tutto a posto. C'è questa parte qua appunto che protegge i microfoni all'interno, li protegge bene. Facciamo così, guardate. Un ultimo massaggio. Massaggio, massaggio, massaggio Ok, dai Cucù, cucù Penso sia giunto il momento di darvi la buonanotte Anche perché qua gli uccellini non avveniscono Iscrivetevi al canale se siete nuovi Per entrare a far parte della Ups Community E se siete dei maschietti diventare gli upsi Mentre se siete delle bevinocce diventare gli upsi Poi lasciate un bel like sempre qua sotto E commentate qua tutto quello che vi passa per la testa, va bene? Ricordatevi che il mio canale è un posto sicuro Quindi non abbiate paura o problemi a iscrivermi, va bene? Il video di oggi purtroppo finisce qua Ma se tu vorresti stare ancora insieme a me Io ti lascio di qua il mio video precedente Di qua una mia playlist E qua sullo schermo, qua in basso Il tasto per andare sul mio canale E vedere qualunque video tu vorrai Quindi buonanotte ragazzi e ragazze Un bacio E noi ci vediamo al prossimo video, va bene? Buonanotte Scrazione